Pronti? Questo è quello sbagliato, perché non dobbiamo voler andare a fare il giro. Ecco, mi immagino, dobbiamo fare il giro. Beh, che penso. Anche se ti rilassi, quando ti rilassi... Quello è molto difficile, questa parte. I know I taste. Quello è molto difficile, e da dove c'è? Ehm... 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 C'è un punto di sicurezza? C'è un punto di sicurezza? Ehm... C'è un punto di sicurezza? Grazie. 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 Grazie a tutti. ma non solo il tempo ora guarda il giorno grazie non bisogna allentare non te l'ho immaginato non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.